salve amici di tecno lovers tocca a me entrare in questo viaggio dio per quanto io abbia poca dimestichezza e francamente se anche un po stufa di viaggiare tecnologicamente ci proverò non ostante l'età per voi mesdames messie da platinet certo guardala che bella io utilizzo internet per svariate attività soprattutto per fare la spesa perché odio portare a casa le bottiglie d'acqua e quindi mi serve e ho diversi indirizzi e mi rifornisco da diversi supermercati in modo tale poterli confrontare come tutti quelli che rincorrono una giovinezza perduta o detestano la solitudine della maggiore età uso la rete come possibilità di ricerca di partners compagni sesso droga quella che vendono che difficilmente trovo tipo la riosto per me molto difficile da trovare lo compro solo in rete per dire no che lo uso come fanno credo tutti coloro che si appassionano vanto un primato nella mia città all'epoca siamo negli anni 90 con i primi abbonamenti carissimi fatti da un provider sotto casa una roba la cosa che mi piace di più in assoluto è la scoperta di programmi che possano farmi fare meglio ciò che mi serve ad esempio l'editing musicale piuttosto che tutta la parte diciamo audio quella mi interessa e mi appassiona come se avessi 13 anni e mi fosse spuntato al primo brufolo non credo che sia una voglia quella di essere altri di usare un nickname è molto spesso una copertura alle proprie incapacità ed è una giustificazione per seguire la modernità ma il fatto stai del cambio d'identità potrebbe anche terapeutico quando uno può pensare di essere un'altra persona e di avere non so un'altra ideologia un'altra esistenza in parallelo a parte che vorrei sapere come considera la sua prioritaria e poi mi piacerebbe capire perché si fa chiamare orchidea selvaggia e poi non so cosa cosa possa fare adesso i social network hanno tirato fuori per me almeno questo aspetto orrendo che la vecchiaia sia impossessata della rete ormai si va alla ricerca della riesumazione i compagni di scuola quelli del tuo quartiere quelli che frequentavi quando facevi ti ricordi ci siamo visti a una cena di beneficenza nel 92 in alta valsassina come faccio io a ricordarmi chi sei non mi interessa parlare con te l'aggiungere o togliere amici è una dimostrazione dalla parte di solitudine e di voglia di compagnia dall'altra però decido io i miei momenti non voglio questa aggressione ecco i social network almeno in quel caso lì sono un'aggressione il fatto che poi gli altri possano consultare il tuo traffico di messaggi e compagnia mi rende il tutto francamente a me l'idea dei compagnoni a tavola tutti tanto amici alla fine sarà tutto imbriacchi non solo mi interessa mi fa vomito per cui adesso chiuderò il blog anche quello della radio perché non c'è più niente da dire è un periodo in cui non si può fare un pezzo per far godere gli altri di come se sai scrivere bene o male non lo so di come sai scrivere di aggiungere e di utilizzare il tuo tempo in questo modo quando poi la risposta è sempre molto deludente e non è una questione di presunzione è una questione che è totalmente inadeguata io adorerei poter parlare con un gruppo non so le amiche di pari hilton io mi scrivo subito ci passo delle giornate perché vengono fuori probabilmente discorsi più interessanti ma non c'è nessuna che almeno fino ad ora non mi è capitato che sia in grado di giocare questo gioco della finta quarta sesta identità fino in fondo io voglio capire come fa pari hilton arrivare a casa la mattina ancora sana in piedi dopo tutto quello che si è fatta si è buttata giù lei racconta di queste notti da miliardaria con le smart drugs ecco mi interessa il modo che non conosco e mi interessa quindi recitare la mia parte ma con persone che stiano al gioco non che mi chiedano non so come succede a me forse perché il mio caso è anche un po strano ma sei truccata la mattina quando vai in rara ma che te frega no è finita lì io secondo te perdo sì sono truccata penso un paio d'ore a come vestirmi alla terza esco alle 5 della mattina scherzo per dire che non mi piace questa socializzazione mi piaceva una volta perché capivo che c'era una reale curiosità adesso mi sembra che copra dei buchi tremendi